Ma questa è l'infrastruttura tra le nuove autostrade in Italia che ha i pedaggi più bassi, allineate verso il basso. Dall'altro dovremo capire quali saranno i flussi di traffico. Oggi abbiamo 45.000 veicoli al giorno, avremo un incremento dal 30-35% con l'apertura di questi 22 km e 300 metri. Dopodiché con il collegamento definitivo all'A4 capiremo quanto potremo limare sui pedaggi.